Malgrado sia il sabato prima di Ferragosto, non ci sono ferie e ponte lungo per il sindaco di Vibo Varenzia che convoca una conferenza stampa a mezzogiorno e mezzo per presentare ufficialmente l'aggiunta rinnovata al 50%. L'appuntamento è nella sala consigliare e l'impatto visivo è simbolico. Al suo fianco i quattro nuovi assessori, Catia Francia al personale, Lillo Scionti ai servizi sociali, Giuseppe Fanelli cultura e turismo, Antonello Fusca con delega al porto. Sugli scranni superiori, come voler coprire le spalle ai nuovi entrati, la vecchia guardia confermata, Michele Falduto all'innovazione, il vice sindaco Pasquale Scalamogna all'urbanistica, Carmen Corrado attività produttive e lavori pubblici, Vincenzo Bruni all'ambiente, l'assessore Nardo non pervenuta. Dal lato dei consiglieri invece il voto totale. Nessuno, neanche i capigruppo presenti per dare un segnale concreto di sostegno alle scelte del sindaco. Maria Limardo, dal canto suo, si mostra sicura e soddisfatta. Io sono stata abituata a lavorare sin dal primo giorno del mio insediamento, l'ho promesso ai miei cittadini e continuerò fino all'ultimo giorno a farlo. Come dimostra e come testimonia anche la nomina degli altri assessori per completare la mia giunta. Avete avuto modo di sentirli, di vederli. Sono molto determinati, pieni di passione, di amore per il territorio e sono convinta che insieme con loro riusciremo a percorrere quest'ultimo tratto di strada che non è neanche molto poco e a portare a compimento tutta una serie di cose che sono ancora da fare. Quindi siamo qui a lavorare con rinnovato entusiasmo sempre a favore della città. La scelta è stata più tecnica che politica negli uomini individuati? Ma io ho guardato alla città e ho cercato di individuare le energie migliori. Loro sono veramente tra le energie migliori della città. Hanno accettato di essere al mio fianco con assoluto entusiasmo e credo che sono veramente tra i migliori.